Ben tornati a San Paolo benvenuti a Napoli Roma è tutto per loro il palcoscenico per le due grandi protagoniste del calcio meridionale il derby del centro sud è chiamato ormai per tradizione l'unico peccato è che manchino i tifosi della Roma e che oggi lo stadio San Paolo è colorato interamente d'azzurro 60.210 sono gli spettatori per la prima volta della stagione c'è il tutto esaurito ricordiamo che viene superato dunque il record dei 54.137 paganti stabilito in interdoto con il panionios l'incasso non dovrebbe superare anzi dovrebbe superare il milione e 230.000 euro con Beppe Bergomi entriamo subito nel vivo della partita per spiegare soprattutto lo strano campionato del Napoli che in casa si comporta come l'Inter è da scudetto 25 punti sui 33 totali è molto docile in trasferta dove tra l'altro ha incassato domenica scorsa a Verona la quinta sconfitta consecutiva fuori casa come si spiega Beppe una contraddizione così evidente in termini di risultati? Massimo io penso che sia una questione ancora che questa squadra debba maturare soprattutto con l'approccio alla partita fuori casa io domenica l'ho vista tutta la partita contro il Chievo tu puoi anche perdere una gara ma la devi approcciare in una maniera diversa andare a far capire la tua personalità la tua voglia di crescere e l'ambizione di poter fare un campionato importante in casa è stradipante fuori manca secondo me ancora di un po' di personalità e di voglia insomma di avere questa leadership che forse magari negli uomini non riescono ancora ad avere un rendimento davvero straordinario mentre vediamo che è straordinario anche il comportamento della tifoseria del Napoli che invoca la fine della guerra a Gaza alla fine di tutte le guerre uno striscione che riceve applausi da tutto il pubblico del San Paolo una striscia positiva entusiasmante da quando la Roma è passata qui il 9 marzo con i gol di Perrotta e Totti oggi curiosamente fuori per scelta tecnica 18 partite utili consecutive per il Napoli 16 vittorie 2 pareggi oggi manca Amsic uno dei più bravi del campionato e allora come se la giocherà? Abbiamo detto Maggio e Mannini per creare la superiorità sulle corsie laterali Blasi e Pazienza a marcare in mezzo Gargano un pochettino più avanti ad aiutare Lavezzi e Salaceta Ma io sono curioso di vedere un po' la posizione di Gargano perché lui ha sempre giocato davanti alla difesa con gli altri due interni di centrocampo che spingevano molto mancando Amsic può essere che lui possa avere un po' più di libertà e gli altri due interni parlo di Blasi e Pazienza un po' più attenti alla fase di interdizione ecco però l'assenza di Amsic è importante anche se nell'ultimo periodo non stava attraversando non stava andando molto bene il ragazzo L'arbitro è uno dei più bravi Emidio Morganti 87 partite in Serie A assistenti Romagnoli e Nicoletti quarto uomo Pierpaoli dovrà avere occhi anche dietro la testa oggi Morganti perché nell'ultimo periodo si sono lamentate la Roma per le disavventure arbitrali soprattutto nel quarto di finale con l'Inter il mercoledì sera ce l'ha con Orsato la Roma ce l'ha con Farina il Napoli per l'arbitraggio di Chievo Napoli è una Roma che dal primo novembre a domenica scorsa è stata la più brava di tutte ha preso un punto in più di Inter e Juve 8 di Fiorentina e Milan 10 del Napoli 11 della Lazio 21 dell'Udinese una Roma lanciata verso la Champions League ma oggi abbastanza sorpresa lascia fuori Totti che sembrava candidato a rientro aveva programmato il suo rientro per oggi sta fuori per rotta i due match winner dell'anno scorso Panucci non va neanche in panchina te l'aspettavi Beppe? sentendo le dichiarazioni anche dei diretti interessati soprattutto di Totti che ha dato la sua disponibilità insomma non me l'aspettavo però ci può anche stare perché l'allenatore deve tenere in considerazione tante variabili Totti che recupera dopo tanto tempo in una partita difficile dedicata ci può anche stare che possa partire dalla panchina e essere decisivo quando entra è direi a quinta stagione a Napoli ha compiuto un vero miracolo portando la squadra azzurra dalla Serie C alla zona Champions League ha detto alla vigilia è l'unica figurina che mi manca e ha detto pure della Roma il reparto meno forte è quello difensivo questo orienterà le sue scelte tattiche il suo modo di premere sia in mezzo che sugli esterni per andare a dare fastidio alla difesa romanista la difesa romanista non è che secondo me è un buon reparto perché ogni tanto soffre di qualche amnesia e quando vuoi giocare la squadra molto alta in velocità si può prendere la difesa della squadra di Spalletti però presi singolarmente sono degli ottimi giocatori quindi Napoli dovrà fare la propria partita e se vuole sfruttare la contropiede e la velocità di Lavezzi cercare di far ripartire la Roma per poi colpirla è tutto pronto per il fisco d'inizio Napoli-Roma comincia adesso con il fisco d'inizio di Morganti Spareggio per la Champions League anche se tutte e due lo ripetiamo al momento all'inizio del giro di ritorno ne sono fuori 35 punti per il Genoa che è il punto di riferimento per la zona Champions League il Napoli ne ha 33 la Roma 30 prova subito ad attaccare con Vucinic fermato ha recuperato Pizarro De Rossi il capitano della Roma è stato fermato da Gargano e adesso può partire Pazienza che ha girato sull'esterno per la prima proiezione da parte di Mannini ripiega Taddei il tocco all'indietro subito un Napoli che vuole giocare in verticale lo fa con Lavezzi ha giocato praticamente da solo contro il Chievo domenica scorsa ancora Mannini al cross Salageta fermato dall'intervento di Mexes in qualche modo la Roma è riuscita ad uscire con il lancio di Taddei che però finisce nella metà campo napoletana ed è Santa Croce che ha appoggiato su Contini all'indietro per Cannavaro difesa 3 come al solito quella del Napoli con Santa Croce, Cannavaro e Contini sugli esterni mentre parte Vucinic in posizione regolare va a ripiegare Contini Vucinic sul cross deviato, primo calcio d'angolo e primo pericolo per la porta di Gianello sull'incursione della rientrante Vucinic si si è fatto sorprendere qui la difesa del Napoli che ha cercato di fare fuori gioco però non con il sincronismo giusto la Roma è andata subito in verticale perché De Rossi va a cercare sempre i giocatori che giocano tra le linee sempre molto bene Napoli tenere attenzione a fare bene fuori gioco sono saliti Juan e Mexes, primo calcio d'angolo, lo sta per battere Pizarro in area anche De Rossi a tenere compagnia Giulio Battista e a Vucinic ha provato proprio Juan palla fuori, cerca il tiro in porta a Riese e lo manda fuori protagonista negli allenamenti settimanali John Arne Riese con la sua bomba da fuori segnato anche un paio di gol in una delle ultime partitelle serve alla Roma il Riese che sta recuperando la migliore condizione ma non è ancora quello di Liverpool soprattutto per quanto riguarda le conclusioni da fuori pazienza, Mannini lo aspetta Cassetti Salaceta movimento di Lavezzi il cambio di gioco dall'altra parte per Maggio può attaccare Maggio cerca la combinazione con Lavezzi in azione il Poccio, lo chiudono in due insiste Lavezzi palla incollata al piede, però prendono Riese Lavezzi si ferma, era stato trattenuto da Riese si gioca però per il vantaggio ancora Lavezzi, cerca Salaceta disimpegno di Tadei Juan cerca subito Giulio Battista partita dai ritmi altissimi in questi primi due minuti e mezzo Brighi per Pizarro, rimessa per Napoli Napoli viaggia con grandi accelerazioni soprattutto quando la palla la prende Lavezzi il campo insidioso, prima ha sbagliato la conclusione Riese perché gli è rimbalzata male ma anche Lavezzi ha cercato di fare l'azione personale è scivolato, però quando prende la palla lui innesca subito la ripartenza del Napoli ha piovuto tantissimo a Napoli per tutta la giornata di ieri adesso c'è l'attacco di Maggio che non supera Riese ha piovuto molto ieri a Napoli anche stamani il campo potrebbe averne risentito anche se sembra in ottime condizioni il Prato del San Paolo Giulio Battista non riesce a controllare Mannini all'indietro per Cannavaro ricordiamo nel Napoli mentre nella Roma è squalificato Sissigno e sono indisponibili Tonetto e Montella nel Napoli è squalificato Amsic per due giornate ed è ancora indisponibile Iezzo per il mal di schiena al suo posto gioca in porta Gianello scivola anche Taddei evidentemente ci sono delle zone del campo dove è più difficile mantenere l'equilibrio il lancio verso Salaseta palla lunga, la controlla Riese l'appoggio di testa su Brighi c'è spazio per l'avanzata di Brighi ancora Brighi un seguito da Maggio sta arrivando Santa Croce Brighi mette dentro allontana Cannavaro salta Riese arriva prima Salaseta Juan cambiato gioco nella zona di Cassetti che può muoversi con tranquillità lo sta aspettando da quella parte pazienza sta arrivando anche Gargano Giulio Battista palla persa dalla Roma può tornare in avanti il Napoli c'è subito il lancio per l'Avezzi troppo lungo rimessa per la Roma e andiamo subito a bordo campo da Massimo Ugolini sì le prime indicazioni di Reia sono proprio per l'Avezzi perché Salaseta è bravo nel tenere la palla nel far salire la squadra ma soprattutto nel difenderla e quindi non deve perdere contatto l'Avezzi con Salaseta deve giocargli più vicino per sfruttare i suoi assist Salaseta qui movimento all'indietro per l'appoggio Mirko Miassi un po' il mio ritorno a partire Maggio in posizione di alla destra il cross di Maggio Juan in scivolata chiude una situazione che poteva diventare pericolosa per Doni Vucini ci ha toccato all'indietro per Pizarro lo scatto di Taddei lo va a prendere pazienza al centro c'è Giulio Battista insiste Taddei raddoppio di marcatura e palla in fallo laterale raddoppio di marcatura che era di Manuele Blasi ex giocatore della Roma con cui ha esordito in Serie A nel 2000 esattamente il 22 gennaio 2000 quindi nove anni fa esordiva con la maglia della Roma in Serie A Manuele Blasi romano di Civitavecchia Cassetti ancora Cassetti che va al cross Santa Croce controlla l'intervento di Gianello voleva la palla più lunga e più tesa Vucinic che era sul secondo palo e si però era posizionato molto bene Santa Croce che difendeva la propria zona di campo vedendo benissimo Vucinic quindi è stato molto bravo di intervenire tra poco andremo a sentire quali sono anche le prime osservazioni di Luciano Spalletti seguiamo l'attacco del Napoli con Gargano servito da Mannini ancora Gargano il duello è con Mexes prova a mettere dentro si è liberato Mannini arriva prima a chiudere e a rinviare De Rossi ancora un cross verso Salaceta lo stop Salaceta gol ha segnato Salaceta protesta la Roma vuole un fallo di mano per l'arbitro è tutto regolare Salaceta ha portato in vantaggio il Napoli al sesto minuto del primo tempo adesso però tutta la Roma ha circondato Morganti tutta la Roma ha circondato Morganti chiedendo il fallo di mano del attaccante uruguayano mi sa che non lo dà non lo ha dato fallo di mano tutto annullato gol annullato probabilmente su segnalazione dell'assistente è stato l'assistente Romagnoli a annullare questo gol di Salaceta Morganti l'aveva dato Romagnoli ha chiamato l'arbitro per il fallo di mano di Salaceta che a questo punto deve essere ammonito ma secondo me non è stato volontario il fallo di mano perché lui è andato a stoppare questa palla in alto col petto e forse gli è sbattuto sul braccio però se è fallo di mano volontario deve essere ammonito perché è andato poi a segnare ha tratto vantaggio in una situazione importante e comunque è tornato sulla sua decisione l'arbitro Morganti rivediamo è netto io avevo avuto la spalla anche se la palla va sulla spalla e poi sono vedi picche sul braccio dopo il primo contatto è regolare poi però la palla va sulla mano si la accompagna col braccio abbiamo avuto in diretta questa sensazione però ho visto l'arbitro molto vicino con voglia di dare il gol quindi sono rimasto fermo però la sensazione iniziale era quella che si era aiutato con il braccio l'arbitro era molto più vicino e forse posizionato meglio rispetto all'assistente sì perché era di spalle quindi era difficile vedere questa situazione per l'assistente allora tutto annullato annullato il gol di Salaceta 0 a 0 rimane in punteggio allo stadio San Paolo rimane il sospetto che se avesse volontariamente accompagnato il pallone con la mano Salaceta poteva anche essere ammonito l'attaccante del Napoli comunque non c'è stata ammonizione attacca Mannini prova Mannini sinistro ribattuto da Mexes palla allontanata da Taddei la ferma Giulio Battista ma lo anticipa Blasi davvero scatenato Blasi in questi primi minuti è l'uomo in più nel centrocampo napoletano adesso è Mannini che prova a liberarsi per il cross Mannini palla bassa Pisano svirgola Juan la porta fuori prova Maggio ancora Juan ancora Maggio e poi Brighi per il disimpegno affidato a Riese era da annullare dunque il gol che ha segnato Salaceta e l'arbitro dopo aver inizialmente convalidato la rete ha aderito alla segnalazione dell'assistente Romagnoli e ha annullato il gol di Marcello Salaceta che tra l'altro con la Roma ha un conto aperto perché gli è capitato di dare dei dispiaceri alla squadra romanista la palla lunga di Gianello ci sarà rimessa laterale un po' di frenesia un pizzico di precipitazione di troppo negli attacchi del Napoli qui rivediamo ancora l'azione il primo contatto è regolare con la spalla il secondo è per aggiustarsi il pallone con la mano secondo me non l'ha fatto volontariamente Massimo perché proprio sulla dinamica dell'azione l'ha portato gli sbatti addosso esatto è finito giù intanto Brighi scivolando sul terreno di gioco qui Juan chiude sull'Avezzi scivola anche il Poccio la Roma si riorganizza e noi torniamo a bordo campo andiamo da Angelo Mangiante sull'episodio di Salaceta l'unico che ha chiesto il giallo per l'attaccante ruguagliano è stato Spalletti lo ha reclamato a gran voce a De Rossi che è il capitano voleva che appunto chiedesse questo a Morganti De Rossi non se l'è sentita però evidentemente la paura che il gol venisse convalitato era sufficiente per lui averlo annullato quel gol non ha chiesto il giallo De Rossi per Pizarro prova a liberarsi il cileno rimpallo per Tadei che può andare al cross e poi ha spostato il pallone impedendo a Vucinic di colpirlo bene ma c'era un fuorigioco all'interno dell'area di rigore Brighi fuorigioco all'interno dell'area di rigore calcio di punizione per il Napoli sono passati dieci minuti davvero di gran ritmo eccolo il fuorigioco all'interno dell'area di rigore sul cross che se non tocca il pallone lo sfiora e poi Vucinic rimane tagliato fuori dall'azione si riprende comunque con un calcio di punizione per il fuorigioco di Brighi sta per battere Gianello dieci minuti dall'inizio della partita zero a zero tra Napoli e Roma Napoli un po' come ce lo aspettavamo Beppe molto in avanti baricentro molto alto con grande aggressività quando la Roma prova ad uscire palla al piede hai detto una cosa giusta il Napoli molto aggressivo sta dando intensità al proprio gioco è una squadra che vuole andare molto in verticale la Roma vuole fare possesso di palla e rallentare i ritmi però non ve lo permette il Napoli soprattutto con Blasi con pazienza e Gargano il centrocampo che sta veramente facendo molto bene rimessa laterale affidata a Rise Battista Vucinic fermato Brighi riparte Taddei prova a calciare Taddei da lontanissimo palla sul fondo ci sarà rimessa per Gianello sostituito Iezo domenica scorsa al 20 godi di Verona Matteo Gianello tra l'altro di quella zona Veneto e ha subito i due gol sul calcio di rigore di Marcolini colpo di testa di Juan salta Vucinic la palla però rimane in possesso del Napoli con Cannavaro Santa Croce si sta liberando a destra Salaceta ancora Salaceta evitato Brighi va a puntare Salaceta Lavezzi fuorigioco fuorigioco di Lavezzi e c'è calcio di punizione in favore della Roma si comunque è una Roma un po' disattenta anche nell'occasione prima precedente vediamo il fuorigioco c'è e me ne ero reso a conto subito in diretta anche quando è stato annullato il gol di Salaceta c'è stata poca pressione sulla palla soprattutto di Mexes che era uscito sull'esterno quindi c'è poca pressione negli ultimi 20-25 metri soprattutto sui giocatori che prendono la palla e possono servire in profondità in questo caso Salaceta su Lavezzi c'è poca pressione torniamo a bordo campo da Angelo Mangianto guarda proprio su questo episodio si è accorto subito Spalletti della posizione di Lavezzi verso Riese a cercare il norvegese per mettere in difficoltà già c'è riuscito in due occasioni anche per questo ha chiesto Brighi di non lasciare mai troppo solo nell'uno contro uno Riese con Lavezzi Blasi ha fermato Brighi recupero di Pizarro poi De Rossi non riesce a fermare Salaceta ha spostato il pallone Mexes Lavezzi subito verso Salaceta in area di rigore Salaceta sul rimbalzo arriva Doni Salaceta non è riuscito a controllare il pallone lo distruggava Cassetti non era facile per lui si è inserito subito nel buco lasciato libero da Mexes che mi sembra il giocatore più in difficoltà della Roma in questo momento è stato bravo Cassetti nella diagonale di copertura qui l'intervento di Gargano che ha fermato Taddei Mannini gioca il pallone corto pazienza Lavezzi Brighi interrompe l'azione del Napoli il passaggio era per Salaceta all'indietro De Rossi cambia gioco alleggerisce su Riese la battuta lunga di Riese per lo scatto di Giulio Battista lo vanno a chiudere in due insiste Giulio Battista Cannavaro in scivolata evita il calcio d'angolo e concede solo rimessa laterale alla squadra di Spalletti la prima iniziativa di Giulio Battista che ha spaventato la difesa del Napoli tanto che sono andati a chiuderlo in due adesso è pronto Riese a rimettere con le mani solo Giulio Battista è vicino al norvegese però una rimessa molto lunga infatti palla lunga va a cercare Vucinic all'interno dell'area Vucinic non c'è arrivato Taddei arriva Cassetti pallone in curva sul tiro di Cassetti Cigui aveva paura secondo me Massimo di controllare la palla e perderla perché il Napoli stava uscendo molto bene dalla propria area di rigore quindi ha tentato una soluzione da molto lontano non colpendo benissimo la palla è già la seconda volta a terza che la Roma riesce ad arrivare al tiro ma non inquadra mai la porta torniamo a bordo campo da Massimo Golini per dirvi che intanto si sta precauzionalmente scaldando Rinaudo perché sembra che abbia un problema l'adduttore Cannavaro ho rimediato nell'ultima a te però Juan mette il pallone fuori area poi Riese si è cacciata qui in un pastizzo la difesa della Roma con questo retropassaggio intervento di Cannavaro torniamo da Massimo Golini sì insomma sembra qualche problema muscolare per Cannavaro mentre Reio si preoccupa molto di tenere la squadra corta salgono troppo Blasi e Pazienza devono essere più devono rimanere più bassi davanti alla difesa insomma non perdere le distanze tra i due reparti è spinto dall'entusiasmo il Napoli Verossi e spesso porta avanti i suoi interni qui il tentativo di Brighi e la risposta in calcio d'angolo di Gianello ha cercato l'angolino Brighi inserendosi con una di quelle puntate a sorpresa che hanno fatto la sua storia da protagonista in questo campionato ecco l'inserimento di Brighi il diagonale chiuso da Gianello in calcio d'angolo palla gol per la Roma che va a battere il suo secondo tiro dalla bandierina movimento di Juan salito De Rossi c'è Vucinic il pallone lo ha messo fuori Santa Croce lo controlla Taddei ancora dentro l'area per Vucinic ha provato a girarsi alla fine arriva Gianello ci sarà rimessa dal fondo per il Napoli il Napoli attenzione agli inserimenti di Brighi perché senza palla lui va sempre molto bene ad attaccare lo spazio centrale qui non trova la porta per poco attento Gianello però è un giocatore molto pericoloso che quando la Roma si è sistemata con questo centrocampo a tre ha bisogno degli inserimenti senza palla dei giocatori interni panno di Taddei di Brighi è passato il primo quarto d'ora allo stadio San Paolo 0 a 0 tra Napoli e Roma la rimessa di Gianello cercare Maggio colpo di testa con il contrasto di Brighi Pizarro Vucinic che aggancia palleggio sotto gli occhi di Santa Croce che alla fine recupera ancora Santa Croce disimpegno corto con palla che viaggia verso Salageta prolunga per Lavezzi ancora Lavezzi contro Juan duello sudamericano insiste Lavezzi Salageta è arrivato Magnini dall'altra parte cross di Salageta la palla resta a lui Gargano la mette dentro Rizela allontana ancora Gargano palla corta la porta fuori Brighi Pizarro ancora Pizarro si è liberato a sinistra Brighi ancora Brighi può andare da solo dopo lo scivolone da parte di Blasi Giulio Battista ha saltato Cannavaro al centro Cervucinic insiste Battista va da solo spallata di Blasi punizione per la Roma che giocata che ha fatto Giulio Battista un paio di volte ha saltato Cannavaro soprattutto sulla fisicità perché lui è molto bravo ma anche con palla a terra guarda Cannavaro ha sbagliato il tempo lui doveva temporeggiare e non farsi saltare poi nell'uno contro uno con la faccia rivolta verso la porta è sempre difficile per il difensore è pronto a battere Pizarro in area oltre a Giulio Battista e Vucinic stanno arrivando i due centrali difensivi Juan Mexes e Daniele De Rossi oggi capitano per l'assenza di Francesco Totti che ricordiamo siede in panchina in barriera ci sono Gargano e Blasi lo spiovente di Pizarro salta Mexes e la palla è in rete ha segnato Mexes la Roma in vantaggio al diciottesimo del primo tempo si è proiettato in avanti Mexes e ha realizzato il suo primo gol in questo campionato decimo giocatore della Roma a bersaglio colpo di testa vincente sul secondo palo e Mexes porta in vantaggio la Roma al San Paolo si perché la calciata molto bene è forte a girare sul secondo lasciato troppo solo ci sono le lamentelle di Cannavaro e forse la posizione iniziale potrebbe essere di fuori gioco di Mexes nella inquadratura precedente Massimo si vedeva bene quella di prima ci può dare l'indicazione giusta gol di Mexes dunque Roma in vantaggio al San Paolo eccolo il momento del calcio di punizione è fuori gioco era in fuori gioco Mexes aveva visto bene Cannavaro che ha subito alzato il braccio e è andato a protestare poi non è stato seguito molto dai suoi compagni come se non ci avessero creduto alla posizione irregolare di Mexes qui stavolta né Morganti né l'assistente che è Nicoletti da quella parte hanno avuto dubbi eh lo so non era facile cioè secondo me poteva essere anche facile da individuare perché insomma Guadalini era in linea Mexes era al di là di tutti quando è partito il pallone insomma si poteva sicuramente far meglio azione che ricorda anche un po' quella del gol contestatissimo dell'Inter quello del 2-1 nel quarto di finale di Coppa Italia come posizione al momento del lancio comunque stiamo per andare a bordo campo da Angelo Mangiante e anche poi da Ugolini per sentire se ci sono state proteste della panchina del Napoli seguiamo però l'attacco della Roma con Taddei rimessa laterale da parte di Taddei Giulio Battista in area prova a controllare mette fuori pazienza andiamo allora a bordo campo da Angelo Mangiante ha cercato in più di un'occasione Mexes di ringraziare Pizarro al di là adesso della valutazione sull'episodio perché questo è uno schema che viene provato tantissime volte durante le giornate d'allenamenti a Trigoria cioè con la pallina attiva calciata da Pizarro che va a cercare altissimo sempre sul secondo pallo Mexes questo è il colpo di testa vincente di Mexes Cannavaro va a protestare con l'assistente Nicoletti aveva ragione il capitano del Napoli tutto regolare per Morganti e il suo collaboratore di destra gol convalidato e Roma in vantaggio adesso di nuovo in avanti con De Rossi poi Cassetti che prolunga su Brighi ancora Brighi fermato da Mannini adesso è Contini per il disimpegno ancora Brighi Roma ha recuperato il pallone insiste Mannini però Caparbio nel raddoppio di marcatura difende il pallone guadagna un calcio di punizione Mannini scintille con Taddei punizione per il Napoli sì Massimo può essere che Cannavaro forse era lui il marcatore di Mexes insomma voi nei prossimi replay lo vedremo allora lui si è reso conto perché l'ha lasciato in fuori gioco per staccarsi dalla marcatura perché ha saltato tutto solo se ne va Battista fermato irregolarmente c'è calcio di punizione e primo giallo della partita primo cartellino giallo della partita per il fallo su Giulio Battista è stato ammonito pazienza ci sarà calcio di punizione in favore della Roma sì Battista è quello che in questi primi minuti questi 20 minuti è quello che sta dando più fastidio a Napoli perché gioca veramente bene tra le linee si muove con grande continuità va incontro la palla la sa difendere bene e qui il fallo c'è e c'è anche giusto la munizione netto ritardo pazienza sul calcio di punizione sull'intervento ai danni di Battista cartellino giallo non è diffidato pazienza sta per battere Pisarro in area Mexes che va a partire dalla posizione di fuori gioco poi va a rientrare non è rientrato abbastanza però in occasione del cross seguiamo la punizione battuta da Pisarro palla corta con l'ingresso in area e il cross a cercare Giulio Battista da parte di Cassetti ci sarà calcio d'angolo per la Roma aveva trovato una bella soluzione Napoli un po' disattento devi sempre stare attento all'uomo esterno in questo caso servito bene da Pisarro sul Cassetti che non ha controllato bene perché ha messo un cross troppo arretrato la difesa del Napoli potuta intervenire calcio d'angolo numero 3 per la Roma in area Juan Giulio Battista palla battuta all'indietro su Taddei chiama il pallone dall'altra parte Riese cross di Taddei De Rossi è saltato in mezzo all'area di rigore ha cercato l'angolino ma ha soltanto pizzicato il pallone di testa la Roma in quest'anno ha messo fisicità nel proprio organico perché adesso vengono a saltare Tamekseks Juan lo stesso De Rossi Battista e Vucinice fanno veramente paura andiamo a bordo campo da Massimo Golini sì è un momento molto difficile per il Napoli se ne è reso conto evidentemente Taddei Reia che sta predicando calma nei confronti dei suoi giocatori nessuno dalla panchina ha protestato in occasione del gol della Roma il cross sul quale prova il colpo di testa senza preoccupare Doni è stato di Cristian Maggio uno dei giocatori più importanti nella corsa verso la Champions League del Napoli tra l'altro ha segnato tre gol Maggio tutti qui al San Paolo fallo di Vucinice calcio di punizione in favore del Napoli già battuto Gargano pazienza Mannini accompagna a sinistra Lavezzi si ferma Mannini raddoppio di marcatura stringe Lavezzi va a prepararsi per il tiro non c'è fallo riparte la Roma con Taddei ha recuperato Blasi era rimasto a terra Lavezzi Blasi ha riconquistato il pallone e poi lo perde sull'attacco di Taddei un attimo di disattenzione di Blasi adesso Pizarro tunnel nei confronti di Gargano ancora Pizarro Giulio Battista Taddei ancora Giulio Battista il lancio di Pizarro troppo lungo però per lo scatto di Vucinice ha già recuperato il pallone Gianello grandi qualità tecniche in mezzo al campo da parte della Roma abbiamo visto prima il gesto tecnico col tunnel da parte di Pizarro fa girare bene la palla Napoli sta correndo un po' a vuoto deve trovare un po' più di tranquillità come si sottolineava prima Ugolini che sta predicando Reia si ferma Mannini il tocco all'indietro dall'altra parte si è già liberato Maggio che va a prendere posto in area di rigore la deviazione di De Rossi Lavezzi Lavezzi fermato da Mexes Pizarro ancora Pizarro fallo di Gargano e calcio di punizione in favore della Roma ecco Gargano è l'uomo che dovrebbe dare una mano in avanti si è visto abbastanza Beppe finora un po' frenato sai lui è abituato secondo me partire un po' più da dietro adesso in quel ruolo lì deve andare a dar fastidio secondo me a De Rossi ed essere bravo lui a dare l'ultimo passaggio per le due punte fino adesso insomma si è visto poco rimessa laterale di Rize corre Giulio Battista inseguito da Cannavaro che rinvia nella zona di Brighi ha messo giù Brighi fallo di mano di Matteo Brighi punizione per il Napoli l'ha già battuta Blasi pazienza Salaceta ancora Salaceta ripiega su di lui Taddei mediato il pallone nella zona di Mannini ancora pazienza è libero la Rezzi a destra implora quasi il pallone a destra non glielo danno e alla fine pazienza si fa soffiare il pallone in maniera ingenua da Pizarro prova a riconquistarlo Pizarro all'indietro Taddei Giulio Battista scivolata di Santa Croce l'intervento di Gargano poi di Taddei Mannini ha avuto la meglio con grande decisione la spinta di Mannini Mannini prova a fermarlo De Rossi punizione per il Napoli ha cercato di di rallentare la propria corsa De Rossi ma ormai era partito il fallo c'è l'abito molto vicino e attento si calcio di punizione per il Napoli Angelo Mangiante da bordo campo si aspettava Spalletti questa spinta adesso così carica di Adelina di il Napoli dopo lo svantaggio allora ha chiesto a Pisaro di fare un lavoro un pochino più indietro rispetto alla posizione che occupava prima dà maggiormente una mano a De Rossi in mezzo al campo anche per cercare un pochino di rallentare un po' il gioco nella ripartenza Santa Croce tunnel a Vucinic Maggio in duello con Riese alla meglio qui il norvegese poi rinvio di Riese nella zona di Vucinic è riuscito a tenere il pallone in campo Riese Vucinic all'indietro per Pisarro lo scatto di Giulio Battista fuori gioco fuori gioco di Giulio Battista ma che rischio che ha preso Contini ha fatto bene perché ha calcolato era uno contro uno si è alzato visto che stava calciando però un Napoli che adesso c'è ancora tempo per recuperare questa partita non deve farsi prendere in contropiede che la Roma può essere devastante se ne va Lavezzi in mezzo a due avversari Lavezzi Riese dopo che era stato saltato come un birillo Juan è intervenuto molto bene a chiudere l'avanzata del Pocio Ezequiel Lavezzi la battuta di Riese Lavezzi è il terzo miglior realizzatore del Napoli quattro gol ricordiamo che i migliori realizzatori del Napoli oggi sono fuori dalla partita è squalificato Amsic sette gol con l'aiuto di due calci di rigore è in panchina Denis multato dopo la scena burrascosa di domenica scorsa quando ha lanciato i suoi guanti contro la panchina dopo essere stato sostituito da Reia con Zalageta Zalageta Lavezzi Pizarro Brighi Giulio Battista ancora Giulio Battista alla fine consegna il pallone a Blasi può ripartire il Napoli lo fa con Blasi Lavezzi inserimento centrale di Gargano Gargano calcio di punizione per il Napoli il fallo è di Brighi qui Gargano ha provato l'inserimento da solo e si perché sul movimento a uscire di Lavezzi c'è qualcuno che deve andare ad inserirsi e ad occupare il suo spazio l'ha fatto molto bene ha cercato questa palla in profondità poi ha subito fallo sulla chiusura mi sembra di Brighi punizione per il Napoli siamo al 28esimo del primo tempo è in vantaggio la Roma grazie al gol realizzato da Filippo Mexes ottimo tiratore Gargano sul pallone c'è anche Lavezzi in area si sono portati oltre a Salageta e a Mannini anche Cannavaro e Pazienza c'è anche Maggio in equilibrio il numero dei falli commessi e subiti dunque 4 per parte è tutto pronto sta per battere Lavezzi in porta Toni e poi in calcio d'angolo Cassetti era un tiro velenoso perché ha cercato di sorprendere sul suo palo Toni è rimasto fermo però la calciata veramente molto bene forte tesa a cercare il palo del portiere potrebbe fare anche meglio punto di Toni sul calcio di pulizione di Lavezzi arriva il primo calcio d'angolo in favore del Napoli lo sta per battere Gargano sono saliti Cannavaro e Santa Croce ovviamente insieme a Maggio a Salageta e c'è anche pazienza nell'area piccola di Toni tiene d'occhio i litiganti in area di rigore Morganti brutto muso Morganti per tranquillizzare gli animi nell'area di rigore di Toni lo spiovente di Gargano colpo di testa di De Rossi che allontana Blasi Contini ancora Blasi palla lunga di Blasi è rimasto in attacco Cannavaro sbetta Juan la palla rimane però al Napoli con pazienza Lavezzi è rimasto a terra Cannavaro è rimasto a terra Paolo Cannavaro e allora ha fermato il gioco l'arbitro Morganti nei casi di colpi alla testa è sempre meglio intervenire qui c'è il salto di Juan non c'è scontro con la testa di Juan con il braccio si rivediamo la punizione di Lavezzi e l'intervento di Doni si qui Doni era sulla traiettoria voleva allungare questa palla fuori in calcio d'angolo invece è rimasta dentro il campo in maniera molto pericolosa poi bravi difensori ad accorciare verso di lui Lise ha sportivamente restituito il pallone a Napoli mentre stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo la Roma è in vantaggio per 1 a 0 Godimex S qui c'è il lancio di Contini a cercare Maggio Lavezzi è riuscito Maggio a servire Lavezzi subito il cross per Salageta Mexesi calcio d'angolo si sta facendo potente la pressione del Napoli si perché cerca di creare superiorità numerica dove c'è Rise con lo spostamento di Lavezzi da questa parte con Maggio che è rimasto un po' timido adesso è stato molto bravo andare a colpire di testa e servire Lavezzi però insomma da questa parte può far male il Napoli sta per battere Gargano in area c'è Contini colpo di testa sul fondo e c'è rimessa dal fondo stavolta erano andati due giocatori del Napoli all'altezza del primo palo Contini e Pazienza eccolo il colpo di testa che termina sul fondo da parte di Pazienza anche se c'è un rimpallo su Brighi mi sembra che poi alla fine tocca ancora la spalla di Pazienza però non era facile da individuare rimessa dal fondo di Doni 14 minuti all'intervallo Giulio Battista Pisarro Rize anticipato De Rossi dal recupero di Lavezzi Mannini riesce a controllare un pallone non facile prova a tenerlo in campo e rischia tantissimo con questo retropassaggio regala un calcio d'angolo alla Roma a quel punto forse avrebbe fatto meglio a lasciare la rimessa laterale ma non è riuscito a controllarsi evidentemente Mannini eh sì pensavo di colpire meglio questa palla aveva tutta la metà a campo libera per poter seguire il proprio portiere ha rischiato troppo calcio d'angolo si ferma Taddei arriva Pisarro è il quarto corner per la Roma eccolo il disimpegno di Mannini che tra l'altro ha rischiato di far arrivare verso la porta di Gianello un pallone veramente pericoloso calcio d'angolo per la Roma sono saliti Juan e Mexes una specie di treino con Giulio Battista palla in area di rigore Juan Rete 2 a 0 ha segnato Juan raddoppio Roma con i difensori centrali sta colpendo la Roma al San Paolo raddoppio di Juan al 32esimo del secondo tempo e ancora una volta su palla inattiva ha colpito la Roma pensa cosa può costare questo retropassaggio di Mannini incredibile perché nasce tutto da lì si è creata una situazione di pericolo calcio d'angolo l'avevamo detto prima la Roma quest'anno ha grande fisicità e quando arrivano da dietro lì si sono ammucchiati tutti Juan è staccato molto molto bene e ha trovato un angolino perfetto colpo di testa vincente di Juan al suo secondo gol in campionato siamo al 32esimo del primo tempo Napoli 0 Roma 2 stesso punteggio con cui si chiuse la sfida dell'anno scorso il 9 marzo 2008 sta attaccando il Napoli con Lavezzi Maggio Maggio sul raddoppio di marcatura chiede l'aiuto di Blasi Santa Croce Cannavaro Gargano ancora Gargano due uomini su di lui chiede l'aiuto di Lavezzi insiste l'argentino cerca spazio per il cross mette dentro salta Maggio sposta leggermente il pallone contrastato da Riese rimessa dal fondo per Doni in 14 minuti Beppe l'1-2 della Roma con i due difensori centrali c'erano state proteste sul primo gol qui non possono essercene semmai si può discutere sull'attenzione difensiva della squadra di Reia eh sì perché qui si sono preoccupati di stare vicino a Roma ma non andare ad attaccare la palla invece lo devi fare con giocatori esperti che saltano molto bene soprattutto questo qua rinvio di Doni che va a cercare Riese torniamo a bordo campo da Angelo Mangianto sfruttato benissimo finora alla Roma le palle inattive adesso vuole un centrocampo molto camaleontico Spalletti perché vedete in fase di possesso palla della Roma quando si allunga c'è il vero c'è il rombo a centrocampo con Pisarro vertice alto più basso De Rossi con sui lati Brighi e Taddei poi in fase di possesso palla del Napoli quando spingono invece i quattro centrocampisti si allineano e diventa un 4-4-2 sì con l'aiuto anche di Vucinic che rientra spesso anche lui sulla sinistra effettivamente Brighi si allarga un po' sull'esterno diventa veramente un 4-4-2 sta per battere Pisarro in area De Rossi Mexes Taddei Giulio Battista ancora Mexes che riparte dalla posizione di fuori gioco rientra calcia Pisarro in porta e ha parato Gianello sulla punizione di Pisarro voleva lo spiovente Mexes Pisarro qui ha calciato in porta sì secondo me voleva metterla forte verso la porta verso il portiere non l'ha colpita benissimo e si è alzata la palla colpo di testa di Salageta diventa un assist per Gargano è andato in sovrapposizione Maggio cross di Gargano palla innocua per Doni che è già pronto alla rimessa dal fondo il Napoli rischia di perdere lucidità non deve farlo certo che il doppio colpo Juan Mexes rischia di diventare pesante da recuperare due colpi della Roma in 14 minuti e adesso doppio vantaggio per la squadra di Spalletti primo gol in campionato di Mexes il secondo di Juan pazienza Salageta fermato Salageta Giulio Battista ha recuperato Gargano corre Mannini tiene il pallone in campo lo affida a Contini ancora in Napoli non è riuscito il passaggio di Gargano per Salageta recupera però Contini anticipando Giulio Battista ancora Contini pazienza Gargano Gargano in mezzo a tre alla fine consegna il pallone a Taddei Giulio Battista troppo corto il disimpegno ne ha approfittato pazienza Taddei ha commesso fallo ci sarà calcio di punizione fallo di Taddei su Gargano punizione per il Napoli torniamo da Angelo Mangiante si stanno scaldando sia Aquilani che Perrotta perché Pisaro verso la panchina ha fatto segno che ha un problema a Linguine Spalletti gli ha detto di rimanere in campo però il più possibile visto l'enorme lavoro che sta facendo il cileno in mezzo al campo Santa Croce all'indietro pazienza anche lui va a cercare Blasi e cambio di gioco nella zona dove c'è Contini il lancio di Contini Mexes al volo ancora Contini di testa arriva Mannini Blasi Santa Croce Cannavaro ancora Blasi Contini Lavezzi insiste Lavezzi lo aspettano in tre da quella parte era riuscito ad andarsene Lavezzi gli è mancato il controllo all'ultimo Taddei ha recuperato la posizione in pallone andando a cercare centralmente Giulio Battista adesso Brighi Vucinic si fa vedere all'indietro Rize c'è Pisarro centrale sta arrivando De Rossi a dare una mano verticale per Giulio Battista si inserisce e viene fermato Vucinic non c'è fallo da parte di Maggio voleva la punizione Vucinic è inquadrato Alberto Aquilani sta giocando in Napoli quando mancano otto minuti alla fine del primo tempo qui rivediamo l'intervento su Lavezzi da parte di Taddei la palla è rimasta sotto a Massimo quindi non c'era fallo ha visto bene Morganti in quella situazione Napoli deve avere un po' più di pazienza adesso vuole solamente verticalizzare e trovare la profondità invece di attaccare sull'esterno dare un po' più di ampiezza far muovere la difesa della Roma che se la porti sull'esterno può andare in difficoltà lancio di Taddei Santa Croce all'indietro para Gianello torniamo a bordo campo da Massimo Golini una vera e propria furia Reia soprattutto con i suoi difensori che devono andare in pressing alto sui portatori di palla soprattutto su Battista lasciano troppo spazio troppi metri troppi metri agli attaccanti della Roma azione di Salageta fermata da De Rossi e c'è un numero nelle statistiche abbastanza utile per capire questo primo tempo del Napoli 15 palle perse seguiamo l'attacco di Vucinic Giulio Battista 3 contro 3 se ne va da solo Giulio Battista prova a liberarsi Giulio Battista è finito giù sull'attacco di Gargano fa giocare Morganti e Gargano esce dall'area di rigore palla al piede andando a cercare a trovare pazienza fermato da Pizarro doppio rimpallo palla buona per Brighi Vucinic Giulio Battista lungo il pallone per Brighi e in netto vantaggio Gianello stiamo rivedendo l'azione precedente di Giulio Battista che prova a ubriacare con le finte Cannavaro arriva Gargano ottima scelta di tempo dell'uruguayano si è bravo anche Cannavaro a non abboccare le finte aspettando anche un raddoppio un aiuto che è arrivato da dietro fatto molto bene da Gargano sul rinvio di Gianello il colpo di testa di Juan autore del secondo gol romanista ancora Juan Pizarro Mexes Cassetti Palla lunga verso Vucinic ha interrotto l'azione Gargano arriva ancora Cassetti ha giocato il pallone pazienza ma lo ha consegnato a Taddei di nuovo Taddei da solo Taddei non c'è intervento falloso su Rodrigo Taddei da parte di Gargano è già ripartito in Napoli con Contini Salaceta sta arrivando al limite dell'area Lavezzi sta arrivando anche Maggio cross di Salaceta non è passato il pallone per la chiusura di Mexes sono rimessa per il Napoli Mexes non se l'è sentita di uscire sull'esterno memoria della partita con il Milan quando è stato puntato da patto è rimasto dentro l'area di rigore a coprire il primo palo e l'ha presa lui sul cross tentativo di Lavezzi contrastato arriva Blasi il tiro è stato respinto da Brighi Giulio Battista Rize Giulio Battista la palla resta lì la può giocare il brasiliano adesso due contro due sta arrivando però il ripiegamento difensivo Santa Croce De Rossi Vucinic sta arrivando a dare una mano Taddei Vucinic in diagonale Giulio Battista solo davanti a Gianello Giulio Battista si divora il gol del 3 a 0 calciando sul fondo in malo modo perché ha voluto mettersela proprio sul destro aveva tutto il tempo per mirare l'angolino opposto ha cercato di sorprendere sul primo palo qui è poco attento Santa Croce che secondo me non sta benissimo che non devi mai andare in anticipo se non sei sicuro al limite dell'area devi stare più attento in marcatura ma Giulio Battista si è divorato un gran gol un invito a nozze quello di Mirko Vucinic che ha regalato una splendida palla goal a Giulio Battista palla fuori del brasiliano che ha calciato di destro e Napoli è tornato in avanti con Lavezzi De Rossi in anticipo su Blasi che è riuscito a colpire il pallone lo riconquista con l'aiuto di pazienza lo perde ancora Blasi De Rossi Giulio Battista ancora De Rossi Pizarro la partenza di Vucinic in fuori gioco fuori gioco di Mirko Vucinic ci sarà calcio di punizione per il Napoli mancano 4 minuti all'intervallo sempre 2 a 0 per la Roma che poco fa ha sfiorato il terzo gol con Giulio Battista si perché Napoli gioca sempre al limite anche in questo caso ha fatto fuori gioco ancora una volta bene però sta rischiando molto perché deve sempre andare ad attaccare questa palla in avanti lasciando sempre scoperta la propria difesa e i difensori sulle qualità tecniche dei giocatori della Roma stanno andando un po' in difficoltà Contini ha cercato e trovato Mannini seguito da Pizarro poi all'indietro Cassetti controlla il pallone Mexes affida a Doni questa battuta lunga ci sarà rimessa per il Napoli con pazienza unico ammonito di un primo tempo molto molto corretto tra Napoli e Roma Salaceta fermato in falo laterale da Taddei la rimessa è della Roma protestano i giocatori della squadra di Reia protesta anche Salaceta che era uno dei più vicini Mexes Pizarro Juan Rize Santacroce anticipa Vucinic ma sta scivolando parecchio Santacroce qui all'indietro Blasi pazienza Juan ha commesso fallo su Lavezzi c'è calcio di pulizione in favore del Napoli Juan gioca quasi sempre d'anticipo non vuole farsi mai attaccare da Lavezzi e fa bene qui ha rischiato quasi stava riuscendo l'anticipo ancora una volta è sempre abbastanza pulito qui va a commettere fallo sul pallone Gargano c'è anche Lavezzi che però si allontana rimangono Gargano e Blasi sul punto di battuta e Lavezzi va a portarsi al limite dell'area di rigore va a prendere Vucinic ha battuto Gargano in area colpo di testa centrale di Salaceta e parata di Doni grande occasione per il Napoli per riaprire la partita colpo di testa di Salaceta e parata di Doni buono l'inserimento conclusione centrale si non è riuscito a dare tante forze perché la palla era abbastanza lenta non facile per Salaceta ha fatto il massimo recupero di Santa Croce che lascia finire fuori il pallone era disturbato da Riese è già pronto Gianello per la rimessa ultimi due minuti del primo tempo al San Paolo Santa Croce lo attacca Vucinic Maggio vuole qualcuno vicino Maggio non trova nessuno e allora deve tornare indietro da Cannavaro pazienza puntini Lavezzi movimento di Salaceta il taglio di Maggio in area di rigore insiste Lavezzi prova a far passare il pallone rimpallo favorevole ancora Lavezzi ha fatto tutto il campo in diagonale va al cross Doni senza problemi tagliato tutto il campo Lavezzi poi messo in mezzo un pallone innocuo per il portiere romanista ma il Napoli è di nuovo nella metà campo della Roma è stato fermato da Cassetti recupera pazienza poi Blasi Contini prova il lancio Contini il cambio di gioco verso Maggio salta in anticipo Rise mette giù Pizarro De Rossi Pizarro è sofferente anche su questo passaggio laterale ha dovuto allargare l'interno piede secondo me ha problemi all'aduttore è fermo una smorcia di dolore De Rossi va a cercare proprio Pizarro tocco all'indietro nella zona di Mexes va a cercare di far press in Salaceta Taddei Giulio Battista ancora Taddei palla di ritorno per Gucinic che non può andarci era in fuorigioco e allora Gianello va ad accelerare i tempi di questo disimpegno appoggiando su Santa Croce ha evidenti problemi a correre Pizarro si giocherà ancora per un minuto al San Paolo Rise doppio intervento era stato Blasi a entrare con decisione su Pizarro adesso Brighi De Rossi Giulio Battista Cannavaro gli porta via il pallone può ripartire Gargano ancora Gargano fallo di Brighi punizione per il Napoli finito il tempo regolamentare comincia il minuto di recupero mentre attacca Maggio voleva servire Lavezzi ripallo favorevole il cross di Maggio salta Salaceta arriva prima Mexes palla fuori aria Pazienza sul fondo il tiro di Pazienza dal limite dell'area non male però le azioni del Napoli sempre a destra Massimo c'è poca imprevedibilità insomma Anmai ha capito Roma che va a attaccare da questa parte qui si coordina bene su una palla che arriva molto alta non trova la porta però la coordinazione era buona ha calciato al volo Michele Pazienza rimessa dal fondo di Doni mancano 30 secondi alla fine del recupero 30 secondi all'intervallo colpo di testa da parte di Mannini poi Pazienza rinvio di Mexes Contini che controlla va di nuovo ad alzare il pallone colpo di testa di Cassetti calcio di punizione c'era stato il fallo di mano da parte di Pazienza la Roma può organizzare il possesso palla con Juan De Rossi finisce qui finisce il primo tempo sul punteggio di Napoli 0 Roma 2 primo gol di Mexes segnato in posizione di fuorigioco il secondo è quello di Juan sul calcio d'angolo sta protestando ancora Cannavaro con Morganti e proprio Cannavaro è quello che ha protestato di più nell'azione del gol di Mexes è l'unico che si è reso conto della situazione poi l'abbiamo visto sempre Mexes che va a occupare questa posizione di fuorigioco per poi rientrare e lì la posizione era irregolare finisce dunque tra le proteste del Napoli e con il doppio vantaggio della Roma il primo tempo a San Paolo Napoli 0 Roma 2 decidono i difensori Mexes e Juan ci fermiamo qualche istante per il super spot Roma Aquilani al posto di Pisarro ci fermiamo qualche istante per il super spot è tutto pronto a San Paolo per l'inizio del secondo tempo Napoli 0 Roma 2 ecco le due sostituzioni Aquilani entra al posto dell'infortunato Pisarro e vuole riprendersi il suo posto importante nella Roma 10 presenze e 2 gol in questa stagione entra anche Mariano Bogliasino al posto di pazienza Bogliasino ha giocato solo 41 minuti quest'anno si è infortunato a fine luglio 2008 frattura composta del quinto metatarso del piede sinistro suo il primo gol del Napoli di De Laurenti in Europa l'1-0 ad Atene in casa del Pagno Niosi il 20 luglio 2008 cosa vedremo di diverso quindi nelle due squadre con questi due ingressi ma per quanto riguarda la Roma Alberto Aquilani ha un compito secondo me difficile perché rimpiazzare Pizarro che secondo me ha dato nel primo tempo i tempi alla squadra sempre nel vivo nel cuore del gioco ha perso tanto secondo me la Roma invece quando Bogliasino più qualità rispetto a pazienza che ha sbagliato molto nel primo tempo vedremo se starà lui ecco inizialmente rimane lui davanti alla difesa con Gargano che rimane sempre più alto però più qualità in mezzo al campo ha bisogno di qualità di far girare la palla più velocemente massimo due tocchi si gioca da 20 secondi il secondo tempo al San Paolo seguiamo questa azione del Napoli poi ricorderemo le formazioni disimpegno di De Rossi la partenza di Vucinic in mezzo a due avversari è stato fermato Vucinic può ripartire il Napoli il cross è Di Maggio va a cercare Lavezzi poco fuori dall'area di rigore controllato da De Rossi l'argentino intervento di De Rossi su Lavezzi si continua a giocare Lavezzi a terra e allora la Roma manda fuori il pallone per controllare le condizioni di Ezequiel Lavezzi e il Poggio idolo di Napoli eccola la scivolata di De Rossi è vero che prende la palla Massimo però va anche sull'uomo adesso lo vediamo in guarderini lì molto vicino vediamo da questa angolatura prende la palla bene quindi ha valutato l'intervento deciso ma corretto Roma in campo dunque condoni tra i pali Cassetti Mexes Juan Riese in difesa poi Taddei De Rossi Brighi Aquilani Giulio Battista alle spalle di Vucinic Aquilani ha preso il posto di Pizarro per due cambi ancora disponibili ci sono Artur secondo portiere Loria Perrotta Okaka Menes e Francesco Totti per quanto riguarda il Napoli è in campo con Gianello in porta Santa Croce Cannavaro e Contini in difesa a centrocampo Maggio Blasi Gargano Bogliasino e Mannini in attacco Lavezzi e Salaceta anche qui due cambi ancora disponibili in panchina accanto a Reia ci sono Sepe secondo portiere seguiamo intanto l'iniziativa di Salaceta fa tutto da solo l'uruguaiano il cross di Salaceta tentativo di diagonale che termina sul fondo senza spaventare il portiere Doni da parte proprio del nuovo entrato Mariano Bogliasino si è coordinato molto bene andare a concludere sul secondo palo ma il Napoli ha bisogno di grande movimento dei giocatori d'attacco come in questo caso Salaceta che ha preso lo spazio sull'esterno adesso ha messo dentro una buona palla ma ci vuole oltre a Bogliasino qualcun altro che va ad attaccare lo spazio dentro l'area di rigore se un attaccante esce dicevamo che nel Napoli per due cambi ancora disponibili ci sono il secondo portiere Sepe e poi Aronica Rinaudo Montervino Russotto e Denis questa è la situazione quando si gioca da tre minuti il secondo tempo a San Paolo sempre con la Roma in vantaggio per 2 a 0 Contini Gargano non passa il pallone per l'opposizione di De Rossi ancora Gargano c'è Maggio che può attaccare lo va a prendere Brighi prova Maggio a mettere dentro allontana Mexes pallone incontrollabile per Salaceta era dall'altra parte Mannini recupero da parte di Maggio Blasi ancora Blasi Maggio preso in controtempo dal passaggio del compagno è costretto a consegnare la rimessa laterale alla Roma andiamo a bordo campo da Angelo Mangiante sta iniziando per la prima volta il riscaldamento si alza adesso dalla panchina Francesco Totti quanta qualità oggi sulla panchina della Roma è già entrata Quilani si stanno scaldando anche Menes è un altro campione del mondo come per Rota il fallo di Blasi nei confronti di Brighi ci sarà calcio di punizione per la Roma con l'intervento di Blasi su Brighi punizione già battuta movimento di Aquilani che va a cambiare gioco su Taddei non può agganciare ha rinviato Mannini e il netto vantaggio su tutti Filippo Mexes ancora Mexes deve difendersi dall'attacco di Salaceta dei rossi ancora Mexes mi ha spostato il pallone in fanno laterale Salaceta rimessa per la Roma è pronto Cassetti Massimo la Roma non vuole spercare mai un pallone vedi anche in questo caso Mexes la giocata con De Rossi cercare sempre di tenere palla bassa e fare gioco Brighi ha provato a lanciare Vucinic duello con Santa Croce Vucinic Aquilani Aquilani dentro Vucinic 3 a 0 ha segnato Mirko Vucinic su assist di Aquilani e la Roma porta a 3 i suoi gol al quinto del secondo tempo un'azione di forza al limite dell'area di rigore è stato Aquilani a vincere il rimpallo e poi palla di prima per Vucinic e diagonale che non perdona per il gol numero 7 di Vucinic sempre più capocannoniere della Roma rivediamo l'azione Vucinic la difende bene entra in maniera un po' scomposta Santa Croce Vucinic Aquilani e Vucinic ancora per il diagonale del 3 a 0 tutto bene ma c'è l'errore di Santa Croce perché lì devi proteggere la palla al limite la butti fuori ma se devi scaricare dietro devi essere preciso verso un tuo compagno vedi qui lui vuole dare la palla dietro e la regala ad Aquilani che offre un assist poi è bravo Vucinic perché il portiere va a chiude subito lo spazio lì e la fa passare sul primo palo il gol è di pregevole fattura ma c'è un errore secondo me molto grande da parte di Santa Croce ha fatto 13 Mirko Vucinic 13 gol stagionali ed è il capo cannoniere su tutti i fronti seguiamo l'attacco del Napoli colpo di testa di Rize ad anticipare Maggio in calcio d'angolo è il primo corner della ripresa il quinto complessivo in favore del il terzo scusate complessivo in favore del Napoli il primo dall'inizio di questo secondo tempo la Roma ne ha battuti 4 sta per calciare dalla baglierina Gargano si è portato in area anche Santa Croce palla deviata poi l'anticipo di Juan nei confronti di Cannavaro Contini ha alzato il pallone Brighi ancora Gargano il duello è con Giulio Battista insiste Gargano ancora Gargano con Giulio Battista prova ad andarsene l'uruguayano alla fine è un pericolosissimo tiro cross ma la palla era già uscita si gli hanno dato poco sostegno l'hanno lasciato nell'uno contro uno con Giulio Battista che insomma la Roma ha un grande spirito di sacrificio rientrano tutti poi quando sei in vantaggio 3-0 tutti dietro la linea della palla a difendere per poi ripartire comunque ci vuole adesso è difficile dire qualcosa verso il Napoli perché rimontare tre gol è molto difficile però devi cercare di far sempre la partita e tenere sempre le parti con grande equilibrio perché se no può rischiare parecchio ancora dicevamo di Mirko Vucinic che si sta consacrando capocannoniere romanista su tutti i fronti 13 gol stagionali 7 in campionato 3 in Champions League 2 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa con l'Inter qui intanto Juan va a chiudere sull'Avezzi contatto fra i due punizione per la Roma primo fallo è stato di Lavezzi poi Juan si è un po' arrangiato eh sì perché dopo ha perso l'equilibrio ma ancora una volta attento in anticipo a capire le intenzioni del lancio lungo a servire in profondità Lavezzi lui ha messo il corpo qui c'è il primo primo contrasto sai dopo ci sono sono presi sono con le gambe ma il primo contatto falloso da dietro è di Lavezzi sta per battere Doni all'ottavo minuto del secondo tempo la Roma è in vantaggio per 3 a 0 nei confronti del Napoli colpo di testa di Mannini scivolata di De Rossi Juan il lancio è di Brighi Cannavaro di testa controllo di Brighi Taddei De Rossi ancora Brighi di prima ottima azione che libera sulla sinistra Mirko Vucinic palla troppo lunga per Aquilani che si era liberato bene in posizione di alla destra Gianello ha già rinviato nella zona di Santa Croce Maggio lascia passare Taddei colpo di testa di Riese Brighi ancora Taddei chiusura di Blasi può ripartire ancora il Napoli con Gargano Gargano calcio di punizione cartellino giallo in arrivo per Rodrigo Taddei non è diffidato Taddei così come non lo era non lo è pazienza che è stato ammunito nel primo tempo si mi sembra giusta questa decisione dell'arbitro perché qui era andato via molto bene allunga il tekel va a prendere le gambe di Gargano e la munizione è giusta punizione per il Napoli dopo la munizione di Rodrigo Taddei da ripetere dice Morganti c'è la protesta di Santa Croce stavolta ha battuto lui nella zona di Blasi Gargano lo ferma Aquilani dopo che il pallone era stato spostato da Brighi prova a recuperare Gargano contatto con Aquilani fa giocare Morganti Brighi per Vucinic non riesce il pallone di ritorno ultimo tocco di Santa Croce dice l'assistente Nicoletti rimessa per la Roma andiamo da Angelo Mangiante è questo l'atteggiamento che vuole Spalletti anche dopo il 3 a 0 baricentro sempre alto e poi queste percussioni in avanti tra l'altro è piaciuto a Spalletti l'impatto che ha avuto Aquilani nel match perché si mantiene una posizione un pochino più indietro poi si sgancia bene bello anche l'atteggiamento paterno di Bruno Conti che sta cercando proprio di guidare Aquilani lo sta incoraggiando tantissimo sì ma interessante anche la posizione di Vucinic che rimane largo a sinistra costringe sempre la difesa del Napoli ad allargarsi e anche lo stesso Maggio che deve rientrare quindi si appoggiano molto su Vucinic eccolo in panchina Bruno Conti mentre la Roma ha effettuato la rimessa laterale torniamo a bordo campo ma andiamo da Massimo Ugolini decisamente sotto shock in questo momento il Napoli adesso Rea ha fatto alzare dalla panchina sia Dennis che Russotto mentre c'è la munizione lo vedete insomma il giocatore del Napoli un po' in confusione Contini ha chiesto palle più lunghe insomma bisogna alzare il baricentro ma bisogna soprattutto alleggerire la pressione della Roma che comunque si fa sentire qui ha mimato il gesto del gomito Morganti nei confronti di Contini che è stato ammonito fallo su Aquilani cartellino giallo per Contini neanche lui diffidato ricordiamo che si torna in campo già mercoledì nel turno infrasettimanale della seconda di ritorno mercoledì alle 20.30 la Roma affronterà il Palermo allo stadio olimpico il Napoli giocherà a Firenze un altro spareggio in previsione Champions League prima di affrontare poi l'Udinese domenica prossima Massimo questo è un bel fischio che ha fatto ci vuole anche coraggio perché si vede che è arrivato con il gomito per aver andato a staccare l'aveva preso anche di testa però ha visto molto bene con coraggio ha fischiato avete visto inquadrato anche Gustavo Herman Dennis attaccante argentino che è tra i migliori realizzatori del Napoli insieme a lui Amsic sette gol eccolo qua Dennis sette reti su azione per Dennis sette gol con l'aiuto di due calci di rigore per Amsic oggi squalificato calcio di punizione mentre Aquilani è stato accompagnato fuori duro colpo alla testa nel contrasto che ha portato alla munizione di Contini e adesso calcio di punizione è pronto a battere Riese si sistema il pallone Giulio Battista fermi ha detto alla barriera Gianello è tutto pronto parte Giulio Battista sul fondo non lontano dall'incrocio dei pali e lui calcia molto bene uno specialista con questa ricorsa dritta va sulla palla però riesce sempre ad aggirare la barriera lui non trova la porta per pochissimo la rimessa di Gianello verso Contini disturbato da Giulio Battista palla lunga per Salageta è in vantaggio Cassetti che però controlla male mette fuori con le mani Mannini Salageta Gargano Bugliesino Lavezzi ancora Lavezzi in mezzo a tre avversari è stato invitato a rialzarsi da Morganti Lavezzi mentre Taddei batte lungo a cercare Vucinic lo scatto di Vucinic trattenuto da Cannavaro poi ancora Vucinic difende il pallone c'è calcio di punizione per il Napoli e qui ha punito l'intervento scorretto di Vucinic su Cannavaro Morganti che fa ribattere questo calcio di punizione applausi ironici da parte di qualche spettatore della tribuna centrale a Morganti punizione in favore del Napoli mentre rientra con una vistosa fasciatura alla testa una grossa benda a coprire tutta la testa Alberto Aquilani Gargano Mixes De Rossi Taddei Cassetti Palla lunga per Vucinic in anticipo Cannavaro De Rossi mette giù Aquilani stava per essere attaccato da Blasi si è liberato con l'appoggio su Risi ancora Aquilani ancora Blasi se ne va bene Aquilani da solo sulla fascia sinistra la fuga di Alberto Aquilani che poi viene fermato da Santa Croce non c'è fallo sul Romanista è già ripartito Santa Croce Santa Croce in avanti a cercare Salaceta si è liberato a sinistra velocissimo Mannini lo sta aspettando Cassetti stringe Mannini palla dentro per Salaceta Salaceta Toni in calcio d'angolo splendida azione di Salaceta con una grande girata diretta all'incrocio si è salvato con un gran colpo di Reni Toni e questa è una bella giocata un grande gesto tecnico da parte di tutti e due perché Salaceta stoppa si alza la palla e la gira molto bene in porta attento Doni una Roma che prima si è fatta sorprendere perché aveva attaccato bene con Aquilani e la ripartenza del Napoli è stata fulminea punizione battuta palla messa fuori area rovesciata tentata da Contini tenta Contini e manda sul fondo ma c'è stata una deviazione sulla rovesciata di Contini sarà calcio d'angolo calcio d'angolo che sta per battere Lavezzi ancora una conclusione in acrobazia la deviazione di Cassetti sposta il pallone dallo specchio della porta Lavezzi che ha battuto il colpo di testa di De Rossi salta Aquilani al limite il pallone lo ha colpito Mannini lo rinvia Vucinic riconsegnandolo a Santa Croce che è rimasto nella metà campo del Napoli a tenere compagnia Gianello ancora Santa Croce è qui Santa Croce mette una leggerezza regalando il pallone alla Roma doveva cambiare il gioco Massimo è andato ancora dallo stesso lato dove era arrivata la palla da questa parte doveva far girare la palla e si è andato a complicare la vita abbiamo rivisto con l'aiuto della regia guidata da Giorgio Galli la acrobazia di Lavezzi e la deviazione in calcio d'angolo di Doni riparte la Roma con Juan siamo al quarto d'ora del secondo tempo Napoli 0 Roma 3 con i gol di Mexes Juan e Vucinic la rimessa di Mannini ancora Mannini Bogliasino Brighi De Rossi si era allungato il pallone Bogliasino riparte Giulio Battista ancora Brighi Aquilani mezzo a tre avversari Aquilani Taddei cerca di recuperare il pallone poi Vucinic in lotta con Contini che gioca all'indietro per Gianello Gianello su Santa Croce che però era disturbato da Giulio Battista poi Maggio Salaceta ancora Salaceta insiste l'Uruguayano c'è Lavezzi dagli compagnia lì al limite dell'area scivolata di De Rossi che fa ripartire Aquilani il lancio per Vucinic è posizione regolare quella di Vucinic mette giù e poi si fa portare via il pallone da Contini che protesta con l'assistente Romagnoli l'importanza di avere De Rossi perché in prima battuta è sempre lui lo schermo difensivo andare a tamponare su Lavezzi che vuole portare palla e spaccare in due la difesa della Roma non ci riesce mai perché De Rossi è sempre molto attento e nella giocata precedente secondo me Contini non si è mosso a tempo giusto la posizione era regolare Vucinic è stato fermato da Gargano poi il fallo di Cassetti su Gargano punizione che sta per battere Contini eccolo l'intervento falloso di Cassetti su Gargano Cannavaro palla lunga di Cannavaro per Lavezzi troppo lunga nessun problema per Doni che ha subito affidato il pallone a Rise De Rossi nella difesa della Roma non concede profondità rimane rimane molto bassa quindi è difficile con il lancio lungo sorprenderla è stato fermato da Santa Croce lo spunto di Rise di nuovo il Napoli che prova a tornare in avanti con Lavezzi Gargano fermato da Taddei riparte la Roma prima con Aquilani con Giulio Battista ancora Aquilani un'occhiata a Vucinic il tentativo di lancio quando però Vucinic stava rientrando dal fuori gioco e qui Spalletti avrebbe gradito una soluzione diversa da parte di Alberto Aquilani in Napoli di nuovo in avanti con Gargano adesso Bogliasino Gargano Maggio Lavezzi controtempo però sul passaggio impreciso di Maggio De Rossi Giulio Battista ancora De Rossi Brighi Giulio Battista fermato da Cannavaro c'è il giallo anche per Cannavaro sono tre gli amoliti del Napoli pazienza Contini e Cannavaro nessuno dei tre è diffidato per la Roma il giallo è stato mostrato da Morganti a Taddei all'inizio del secondo tempo rivediamo l'intervento di Cannavaro su Giulio Battista si gli ha schiacciato il piede è arrivato in ritardo anche se Bighini l'aveva toccata leggermente corta però in anticipo il giocatore della Roma Spalletti vuole più possesso il palla da parte dei giocatori della Roma e meno verticalizzazioni e far girare un po' il Napoli a vuoto che nelle ultime battute insomma aveva cercato di dare qualche fastidio in più ha battuto ha battuto De Rossi Vucini in area l'aggancio di Vucini Taddei e poi in calcio d'angolo no rimessa era calcio d'angolo e l'assistente cambia decisione corretto stavolta da Morganti perché aveva segnalato rimessa dal fondo non so ha toccato perché sembra forse avesse preso il palo ha toccato però anche il portiere andandola sul palo ha battuto Aquilani l'angolo Taddei ancora Aquilani che può andare al cross è stato fermato però dalla scivolata di Blasi Aquilani in Salaceta ancora Aquilani che gioca all'indietro su De Rossi Cassetti Rise completamente libero lo va a prendere Gargano il lancio di Rise lo scatto di Vucinic è in vantaggio Cannavaro Blasi Contini Maggio insiste Maggio si fa vedere Lavezzi cross di Lavezzi la palla che taglia tutto il campo c'è Mannini che può andare al cross la chiusura di Taddei cross di Mannini e Juan anticipa Salaceta in calcio d'angolo e si prende complimenti meritati di Doni questa era una grande palla goal per Salaceta sul cross di Mannini ha salvato tutto Juan mandando fuori calcio d'angolo già battuto il Napoli che torna in avanti Brighi mette fuori stiamo per tornare a bordo campo prima seguiamo l'azione di Blasi in area c'è anche Maggio stavolta il colpo di testa di Taddei Lavezzi mette giù si prepara per il tiro Lavezzi fermato da Taddei ancora il Napoli stavolta c'è Mannini servito al limite dell'area ancora Mannini raddoppio di marcatura cross basso mette fuori De Rossi Bogliasino Mannini ancora Bogliasino Cassetti il pallone era diretto a Salaceta poi Aquilani il rinvio di Mexes andiamo a bordo campo da Angelo Mangiante si non vuole lasciare nulla di intentato Spalletti da perfezionista qual è perché la caratteristica della Roma è quella di distribuire il gioco su palla bassa in due o tre occasioni Juan e Mexes che stanno giocando una grande partita hanno cercato però con il lancione davanti Vucinic e Battista lui li ha ripresi e allora addirittura uno come Juan che si è scusato Gargano dopo l'azione di maggio la palla finisce fuori e c'è rimessa dal fondo per Doni torniamo ancora a bordo campo ma da Massimo Ugolini ci sono novità nel Napoli si uscirà in questo momento Salaceta entra Denis sentite i fischi del San Paolo evidentemente è una scelta che non è gradita non è stata gradita dalla tifoseria Rea che continua a praticare calma che vorrebbe più pressione dei portatori di palla della Roma insomma è un Napoli che comunque non riesce a ritrovare se stesso Massimo allora qui sta entrando Denis rivediamo Salaceta poteva diventare protagonista della partita se non avesse macchiato con questo fallo di mano il suo gran tiro prima il fallo di mano poi il tiro del gol che è stato annullato dall'arbitro Morganti adesso Salaceta abbandona il campo e viene sostituito da Denis si era fatto male proprio contro la Roma la lesione al crociato posteriore che lo ha costretto a una lunga inattività è rientrato all'inizio della ripresa all'inizio di questa stagione agonistica 2008-2009 adesso esce e lascia il posto a Denis capocannoniere del Napoli Denis insieme ad Amsic con sette gol realizzati Santa Croce Aquilani prova a riconquistare il pallone calcio di punizione per il Napoli già battuto da Santa Croce verso Gargano Lavezzi ancora Lavezzi tallonato da Taddei Blasi Maggio c'è Mannini ad accompagnare il cross di Maggio salta Doni sulla testa di Denis appena entrato al posto di Salaceta sul rinvio di Doni la palla va a sbattere su Lavezzi rimessa laterale per la Roma Doni è molto bravo anche nel primo tempo sul rilancio alla brasiliana a trovare i giocatori in attacco qui Lavezzi è andato a contrastarlo perché fa subito ripartire l'azione di contropiede Doni Vucinic servito da Giulio Battista se ne va Vucinic palla per Giulio Battista scivolata a fermare Giulio Battista da parte di Blasi e Napoli torna in avanti dopo il disimpegno di Contini lo fa con Bogliasino è pronto a partire Lavezzi Cassetti superato arriva Mexes intervento di Mexes in anticipo su Lavezzi Aquilani che chiusura che ha fatto Mexes col tempo giusto rischiando qualcosa perché aveva fatto un contromovimento attaccando alle spalle Cassetti molto bene Lavezzi fallo su Alberto Aquilani cartellino giallo calcio di punizione e ammunizione Gargano sì Gargano o Santa Croce calcio di punizione in favore della Roma mentre si prepara ad entrare Menes al posto di Vucinic fuori dunque Vucinic e dentro Menes Vucinic ha fatto una buona partita oltre al gol si è sacrificato parecchio anche in fase di non possesso palla sempre davanti in punto di riferimento costante per la propria squadra e pericolo per gli avversari buona gara tredicesimo gol stagionale di Mirko Vucinic stagione semplicemente splendida quella del Montenegrino che qui dà il gol del 3 a 0 alla Roma Vucinic fuori dentro Menes il cambio non è stato ancora effettuato si è rialzato però Mexes che era rimasto dolorante a terra era entrata anche la barella per soccorrere Mexes e adesso può essere effettuato il cambio con Menes al posto di Vucinic vediamo se eccolo qua il cambio arriva adesso l'ingresso di Menes al posto di Vucinic restano da giocare 20 minuti più recupero in questo secondo tempo la Roma è in vantaggio di 3 gol sta per battere Rize Giulio Battista ha avanzato la posizione con Menes alle sue spalle adesso disimpegno di Cannavaro ma la palla è buona per Menes ancora Menes Francese contro due avversari è stato fermato da Contini guadagna un calcio di punizione subito protagonista Menes si è fatto una grande giocata non aveva controllato bene la palla poi in mezzo a due colpo di tacco ad andare via adesso con gli spazi che la Roma ha a disposizione questo ragazzo può diventare veramente importante di fatti la sostituzione di Spalletti ha la sua logica abbiamo rivisto la giocata gioiello di Jeremy Menes appena entrato ha battuto De Rossi allontana Cannavaro arriva Taddei ancora per De Rossi Mannini porta lontano il pallone Rize però in anticipo su Denis corre Menes attaccato da Lavezzi insiste Menes palla al piede per il francese se ne va Contini lo ferma forse si è lasciato andare Menes è andato a cercare il contatto con Contini questa almeno l'impressione si aveva fatto una bella giocata poi forse è andato a cercare il contatto con il difensore del Napoli ma intanto subito in partita molto bene la partenza di Lavezzi che sbuca alle spalle di Cassetti cross di Lavezzi Doni sicuro l'intervento di Doni andiamo a bordo campo da Angelo Mangiante intanto davvero capitano della panchina Dotti si è alzato in piedi non ha gradito se l'è presa con Contini perché in occasione ecco del contatto con Menes poi era andato vicino al francese e lo va rialzato strattonandolo qui c'è l'attacco di Aquilani fermato da Blasi poi Santa Croce Denis ancora Denis si è liberato Mannini palla lunga errore di Denis che sulla corsa ha dato il pallone troppo lungo eh sì qui queste giocate sembrano enormi ma fanno la differenza dalla col contagiri giusta sulla corsa del proprio compagno se lo sbaglio vai a verificare un'azione che poteva essere interessante da parte del Napoli torniamo a bordo campo da Massimo Golini sì perché comunque Reyes sta provando una soluzione decisamente inedita mai provata un 4-3-3 con Maggio passo a destra e Mannini a fare la terza punta sulla destra insomma ha cambiato sostanzialmente l'assetto tattico della sua squadra Santa Croce dopo il colpo di testa di Maggio e ci sarà nuova rimessa laterale in favore del Napoli l'ha effettuata Santa Croce Bogliasino Cannavaro ancora Bogliasino Baggio lo va a prendere Brighi palla di ritorno verso Mannini Mannini lungo per Denis l'anticipo di Juan la partenza di Taddei ma la palla l'ha riconquista il Napoli ancora con Mannini si preparava per il tiro glielo ha impedito Taddei che poi batte lungo a cercare Menes l'anticipo di Blasi c'era la segnalazione di fuorigioco di rientro di Menes attacca il Napoli al limite dell'area Bogliasino Denis ha chiuso tutto Taddei rilancia Juan salta ed è stato anticipato Giulio Battista di nuovo il Napoli in avanti colpo di testa di Mannini che probabilmente voleva servire Denis finisce in realtà tra le braccia di Doni si la soluzione era quella adesso con questo 4-3-3 con i giocatori molto larghi cercare veramente di creare delle situazioni di uno contro uno sull'esterno con la velocità sia di Mannini che di Lavezzi solo che la Roma col 3-0 gioca con grande tranquillità sta per cominciare l'ultimo quarto d'ora del secondo tempo Napoli 0-1 Roma 3 attacco di Aquilani Menes ancora Menes un ripallo favorevole se ne va Menes prova a mettere dentro per Brighia sta arrivando Aquilani ha salvato tutto contro due avversari Contini c'è rimessa laterale per la squadra di Spalletti è stato molto bravo Contini qui a fare la diagonale e non farsi ingannare dalla finza stavano attaccando la palla con tre giocatori gli uomini di Spalletti e Contini a tempo un po' nervoso in questo secondo tempo si è nervosito però deve stare tranquillo perché c'ha le giocate importanti come in questo momento la rimessa di Rise parte Aquilani finisce il campo davanti all'avanzata di Alberto Aquilani torniamo da Angelo Mangiante proprio nell'ultima azione l'ultimo contropiede sull'assist di Menes erano in cinque cinque giocatori della Roma che ha ad accompagnare l'azione addirittura con tre centrocampisti un po' troppo per Spalletti che almeno ha richiamato Brighi insomma ha detto almeno tu stai un pochino più indietro Giulio Battista che controlla all'indietro per Taddei poi De Rossi Aquilani Rise lo va a disturbare Mannini cambio di gioco e su Taddei si sta liberando a destra Cassetti lo aspetta Contini ancora Cassetti dentro per Giulio Battista posizione regolare colpo di testa in calcio d'angolo di Santa Croce che ha seguito il taglio del brasiliano Lavezzi non lo segue Cassetti quando parte è stanco ha lavorato parecchio e quindi si crea un buco da questa parte e su questa giocata c'è stato il taglio profondo di Battista insomma le punte della Roma oggi hanno fatto veramente un grande lavoro sta per battere Taddei in area si è portato anche Juan insieme a Menes Giulio Battista sono tre i giocatori della Roma che si sono portati in area di rigore la battuta di Taddei c'è anche Denis in area rinvio di Cannavaro a vuoto sia De Rossi che Lavezzi Cassetti erano entrati in contatto i due giocatori lancio di Mexes salta Giulio Battista difende il pallone Giulio Battista Aquilani ancora Giulio Battista poi Brighi fermati da Cannavaro c'è Aquilani che prova a riaprire con una palla troppo lunga per Taddei non può sbagliare questo passaggio Aquilani uno con la sua classe con la sua tecnica era troppo facile perché Lampoli aveva stretto proprio sul lato forte del campo lasciando sguarnito veramente il lato debole e lì doveva essere secondo me precisa la palla di Aquilani colpo di testa da parte di Menesse il controllo di Blasi Contini ancora Blasi Santa Croce Maggio Maggio Santa Croce Mannini ancora Santa Croce chiama il pallone dall'altra parte Lavezzi si è spostato a sinistra palla in area Juan ferma sia Mannini che Denis poi Rise rimessa dal fondo perdoni quando i due difensori centrali della Roma non devono correre indietro verso la propria porta lasciare spazio sul gioco aereo sono fondamentali e bravi e anche nelle chiusure trovano sempre il tempo giusto Francesco Totti in panchina ricordiamo che sarebbe dovuto entrare in campo dall'inizio invece è stato portato in panchina come lui anche per rotta c'è anche da ricordare il turnover imposto dal turno infrasettimanale che arriverà mercoledì prossimo Roma-Palermo e c'è stato anche l'impegno infrasettimanale in casa dell'Inter per i quarti di finale di Coppa Italia mercoledì scorso Gargano Denis ancora Denis prova a mettere dentro voleva la palla sull'interno Mannini e Denis invece lo cercava sull'esterno o è partito troppo in anticipo Mannini o solo la palla non è stata precisa quindi c'è stata un'incompressione tra i due che giocando con un 4-3 giustamente deve sfruttare i tagli dei due esterni di Lavezzi e di Mannini passivo così pesante non si è mai registrato nel campionato del Napoli c'è stato lo ricordiamo il 3-1 di Bergamo qui intanto se ne va Battista sta arrivando Aquilani ancora Aquilani colpo di tacco per servire Taddei il cross di Taddei stava entrando in area Brighi taglia tutta l'area di rigore il pallone Gianello va ad evitare il fallo laterale dicevamo la sconfitta del Napoli più pesante era il 3-1 in casa dell'Atalanta c'è stato anche il 3-2 in casa del Genoa ma mai un 3-0 e soprattutto mai un 3-0 in casa questo è il punteggio con il quale siamo arrivati al 34esimo del secondo tempo sta attaccando il Napoli Menes intercetta il pallone diretto a Contini se ne va Menes scivola recupera Contini Bogliasino Lavezzi duello con Menes aveva vinto in un primo momento l'argentino poi Menes ha recuperato ma c'era stato il fallo di Cassetti su Lavezzi pulizione per il Napoli Gargano Maggio Mannini cross di Mannini deviato sarà calcio d'angolo la schiena di Rise ha deviato il pallone in angolo sul cross di Mannini va lui a battere il tiro dalla bandierina cross sul quale arriva Denis poi Bogliasino Lavezzi Lavezzi duello con Menes scolpo di tacco di Taddei Roma che riparte con Giulio Battista Aquilani Aquilani fermato da Gargano Mannini chiama il pallone lungo Maggio se ne va Mannini cerca il cross Mexes in fallo laterale rimessa per il Napoli Gargano tra l'altro c'è un altro numero abbastanza in contrasto con quello che abbiamo visto oggi inseguiamo però prima l'attacco del Napoli con il colpo di testa di Juan in calcio d'angolo nella sequenza di 14 partite utili consecutive in casa in campionato 12 vittorie 2 pareggi il Napoli ha subito solo 6 gol qui attacca e colpo di testa che termina fuori di Denis ha sfiorato il gol Gustavo Denis entrando bene ma non trovando lo specchio della porta e si poteva trovarlo perché se era trovato bene sull'impatto su questa palla prolungata lui arriva molto bene non trova bene il passo guarda con i piedi come non stacca bene non riesce a schiacciare giù questa palla questa è una grande occasione per il Napoli è entrato Montervino andiamo a bordo campo da Massimo Golini sì ovviamente praticamente non cambia nulla con l'ingresso di Montervino vi segnalo il coro che hanno fatto i tifosi della Curva P all'indirizzo del presidente dell'Aurentis Aurelio faccio un regalo il riferimento al fatto che siamo in piena campagna acquisi ovviamente non è casuale non c'è molto tempo per fare questo regalo ai tifosi del Napoli il mercato va avanti fino al 2 febbraio chissà a cosa si riferivano Beppe se dovessi interpretare questo desiderio di cosa potrebbe aver bisogno il Napoli premesso che dell'Aurentis ha detto che va bene così la squadra va bene così però dovresti sempre cercare di migliorarla c'è questo quarto posto insomma questa Champions League visto anche le difficoltà appunto della stessa Roma che invece adesso sta rientrando alla grande rientrata alla grande per questo quarto posto insomma è una chance in Napoli che si deve giocare fino in fondo sta attaccando Bogliasino è pronto ad entrare per rotta al posto di Taddei Lavezzi mette dentro Mexès allontana ci sarà rimessa laterale in favore del Napoli quando mancano otto minuti alla fine della partita rimessa laterale ecco il cambio fuori Rodrigo Taddei e dentro per rotta si è tolto la benda alla testa Alberto Aquilani mentre Taddei sta abbandonando il terreno del San Paolo per lasciare il posto a Simone per rotta rimessa di Contini Lavezzi da ripetere dice Morganti questa rimessa laterale stretta di mano di tutti gli uomini della banchina Bruno Conti compreso per Rodrigo Taddei allontana Menes Aquilani con la mano Montervino calcio di punizione in favore della Roma avanza a battere Doni eccolo l'intervento con la mano di Montervino appena entrato al posto di Blasi Cannavaro Gargano il rinvio di Contini Montervino Palla lunga per Lavezzi va a chiudere Mexes in fallo laterale l'anticipo di Mexes sull'argentino Lavezzi ha rimesso in gioco lui il pallone poi colpo di testa di Gargano per rotta Menes fallo di Montervino e cartellino giallo per Montervino appena entrato giusto la munizione perché è arrivato in ritardo e Menes gliel'aveva portata via la palla anche abbastanza punitivo questo fallo di Montervino andiamo a bordo campo da Angelo Mangiante prima sentivamo i tifosi del Napoli che volevano un regalo sul mercato di Gennaio il regalo a Spalletti gliel'ha fatta questa lunga lista degli infortunati che è finalmente finita per la sua squadra perché è per la prima volta che lui può permettersi di far scendere in campo durante la partita quindi in corso cambi come Perrotta Aquilani e Menes senza considerati che esauriti tre cambi rimane in pacchina totte colpo di testa di Santa Croce la Roma rimane in possesso di palla con Perrotta sta attaccando Aquilani palla dentro di Aquilani rinvio di Cannavaro Perrotta Menes ancora Menes è stato fermato Ceremi Menes da Gargano prova a riconquistare il pallone Santa Croce lo gira subito verso Maggio pancano 5 minuti più recupero alla fine fuori gioco di Dennis posizione irregolare di Dennis che ha avuto poco fa la grande occasione di lasciare il segno sul tabellino dei marcatori si poteva fare il gol la partita non sarebbe cambiata secondo me nella sostanza e nel risultato tutto è girato come abbiamo detto nel primo tempo sugli episodi nel secondo tempo quando il Napoli secondo me poteva osare fare qualcosa di più c'è stato subito l'errore il gol del 3-0 lì ha chiuso la partita quella Roma è stata molto brava nella gestione del risultato Giulio Battista Santa Croce rinvia De Rossi di testa corre Perrotta Cassetti Aquilani la palla la giocata Gargano verso Lavezzi ancora Lavezzi è stato fermato da Perrotta punizione in favore del Napoli partita molto difficile quella di Lavezzi sempre che si è interstardito molto soprattutto nel secondo tempo di queste azioni individuali anche in mezzo a due o tre giocatori invece la Roma sempre attenta sempre in copertura sempre a fare densità nella propria metà campo e concedendo veramente poco era prevedibile che venisse raddoppiato addirittura triplicato in tutte le zone del campo Lavezzi ha cercato poco il dialogo con i compagni in effetti come notava Beppe Bergomi qui l'attacco di Menesse che va giù nel contatto con Santa Croce cartellino giallo per Santa Croce hanno un po' puntato Menesse perché prima Montervino adesso anche Santa Croce lui è entrato bene in partita anche con questa percussione pallapiede centrale a cercare di mettere ancora una volta in difficoltà la difesa del Napoli Santa Croce è ammonito dopo pazienza Contini Cannavaro Gargano e Montervino anche Santa Croce quindi sono sei gli ammoniti del Napoli Gargano che era diffidato salterà Fiorentina Napoli sei ammonizioni contro quella di Taddei per la Roma Giulio Battista Giulio Battista Gianello è bravo a non farsi sfuggire il pallone c'era per rotta in agguato si è stato molto bravo perché in acrobazia Battista si è girato ancora una volta molto bene lo conosciamo la sua bravura la palla gli rimbalza davanti ma lui la tiene lì qui Mexels ferma Denis Juan controlla duello con Montervino tunnel di Juan a Montervino De Rossi ancora De Rossi Rise Gargano rimpallo favorevole a Montervino rimessa laterale in favore del Napoli sull'intervento di Brighi anzi calcio di punizione Montervino Mannini Maggio limita dell'area ancora Mannini Mannini diagonale chiude Cassetti ancora Cassetti era finito a terra Maggio nell'area di rigore ma non c'è stato nulla e allora può ripartire la Roma con Aquilani cambio di gioco di Aquilani la palla dall'altra parte verso Menes va a chiudere Santa Croce insiste Menes col dribbling in area Menes mette dentro Giulio Battista Giulio Battista se ne mangiati due in questa partita questo è il secondo eh sì questo Menes capisco che Napoli in difficoltà sono stanchi lui è ritratto fresco ma è entrato bene in partita saltando ancora una volta la Roma e come il manuale del caccio palla dietro e Battista sbaglia gol sta attaccando il Napoli intanto dall'altra parte lo fa con Mannini che tiene troppo il pallone se lo fa portare via da Brighi si avvicina oltre che il novantesimo anche la scelta dell'uomo partita Sky da parte di Beppe Bergomi seguiamo l'attacco di Montervino Mannini ancora Mannini Mannini sul fondo il tiro di Daniele Mannini guarda io penso che come sta giocando in questo periodo De Rossi è incredibile perché gioca con una tranquillità con una semplicità non sbaglia mai un pallone e poi in fase difensiva c'è sempre sempre a raddoppiare la Vezzi a chiudere su tutti quando esce un centrale lui va a coprire la posizione in mezzo all'area è un giocatore straordinario sa sempre dove si deve mettere sa sempre dove deve stare gioca da veterano veramente molto molto bene dunque De Rossi l'uomo partita Sky di Beppe Bergomi mentre si sta giocando in minuto 43 del secondo tempo Juan rinvia verso Menes Brighi temporeggiato Aquilani perché era in posizione di fuorigioco Giulio Battista l'attacco adesso di Giulio Battista lo va a prendere Contini cross Cannavaro a vuoto rischia l'autorete Santa Croce palla in calcio d'angolo gli è saltata male però a Cannavaro l'ha preso sulla riga Bianca è saltata male e non ha potuto prendere questa palla guarda come salta malissimo Santa Croce se la trova addosso esatto calcio d'angolo per la Roma sta per cominciare l'ultimo minuto del tempo regolamentare allo stadio San Paolo sta per battere Giulio Battista Menes ancora Giulio Battista non è arrivato per rotta Gianello ha subito affidato il pallone a Maggio Bannini Denis lo scatto di Denis duello con Juan si ferma Denis affida il pallone a Santa Croce va Lavezzi sul primo palo il cross è praticamente sulle braccia di Toni che ha subito allungato il pallone verso Menes insiste Menes c'è al centro liberissimo Aquilani Menes vuole andare da solo contro mezzo Napoli alla fine regala il pallone a Montervino il lancio di Bogliasino Denis di testa ancora Bogliasino e Montervino che prova a lanciare scivola Denis qualche coro di scherno per Denis mentre sta attaccando Aquilani Giulio Battista ancora Giulio Battista fermato calcio di punizione che è in favore del Napoli lo ha già battuto Santa Croce si giocherà soltanto per un minuto al San Paolo lo scatto di Mannini ancora Mannini prova a mettere dentro con calma Juan e adesso probabilmente anche i giocatori del Napoli non vedono l'ora che questa partita finisca è un pomeriggio da dimenticare si è messo subito in salita questo impegno con la Roma con il gol di Mexes in posizione di fuorigioco sulla punizione di Pizarro poi per Rotta adesso Aquilani Gianello in calcio d'angolo e poi è stato un vero e proprio diluvio con la rete di Juan e il 3 a 0 di Vucinic eh sì il 3 a 0 poi ha dato l'ammazzata finale insomma perché sul 2 a 0 rientri hai ancora la voglia di recuperare lo spirito giusto e il 3 a 0 veramente ha messo capò questo Napoli poi la gestione della partita da Roma è stata perfetta rischiando pochissimo parte il compo in testa di Denis e cercando di andare sempre a far gol fare possesso palla ma questo la Roma è maestra finisce qui al San Paolo avete visto nella grafica il netto dominio della Roma anche nel numero delle conclusioni finisce con il 3 a 0 la Roma non è mai stata così vicina alla zona Champions League in questo campionato vola a quota 33 raggiunge il Napoli e si avvicina sensibilmente al quarto posto ha vinto uno scontro diretto e l'ha vinto con i gol di Mexes Juan e Vucinic 3 a 0 al San Paolo per la Roma che interrompe quasi un anno di imbattibilità del Napoli super sport gli applausi di Gargano al pubblico del San Paolo che ha comunque incitato la squadra fino all'ultimo c'erano solo tifosi del Napoli oggi c'era per la prima volta nella stagione il tutto esaurito il Napoli perde l'imbattibilità che durava dal 9 marzo 2008 quando la Roma vinse qui per 2 a 0 con i gol di Perrotta e Totti su calcio di rigore si conferma una vera e propria maledizione la Roma per il Napoli interrompendo una serie che durava da 18 partite 16 vittorie e due pareggi tra campionato e coppe qual è stato l'elemento determinante per la vittoria della Roma Beppe? le partite vanno sempre valutate anche attraverso gli episodi l'episodio negativo di aver sbloccato il risultato per la per la Roma insomma ha condizionato un po' tutta la partita del Napoli ecco da lì in poi sappiamo la caratura insomma il livello tecnico della Roma superiore al Napoli e quando va in vantaggio e sa gestire bene la partita poi sul 2 a 0 secondo me ha chiuso lì perché non ha più permesso al Napoli delle sue giocate in velocità non ha dato più profondità e ha saputo gestire con un grande possesso palla e maestria la partita 33 punti per la Roma che conquista la decima vittoria al microfono di Angelo Mangiante c'è già l'uomo ovunque della squadra di Spalletti Daniele ha pareggiato il Genoa adesso si è dal quinto posto scavalcate il Lazio Fiorentina agganciate il Napoli e siete a tre punti dal Genoa quanto pesa questa vittoria sul Napoli? Vittoria importante difficile un po' dove hanno vinto in pochi praticamente nessuno solo noi l'altro anno e anche i risultati delle altre squadre mi sembra che ci diano una bella mano è importante andare forte adesso quando cominci in maniera così brutta un campionato però perché il Napoli sembrava imbattibile in casa otto vittorie su nuove partite qual è stata secondo te la chiave oggi che ha fatto la differenza? Noi siamo una grande squadra se probabilmente veniamo qua a inizio anno avremmo preso ha preso gli schiaffoni anche come abbiamo fatto con le altre squadre però siamo una grande squadra quando ce lo ricordiamo e quando stiamo in condizione possiamo vincere dovunque Perché dagli schiaffoni di inizio anno a questa Roma spettacolo? Perché questa grande differenza? Ovviamente è un calo un calo fisiologico che ci può stare quando fai 3-4 anni ad altissimi livelli è un peccato un peccato perché avremmo potuto fare molto meglio a livello di classifica e competere per altri obiettivi però continuiamo a marciare così e andrà bene comunque E' agganciabile anche il Milan che ha 7 punti secondo te al terzo posto? Manca tutto il giro di ritorno chiunque è agganciabile il fatto che noi continuiamo a giocare in questa maniera Ultima cosa questi cambi insomma oggi abbiamo visto entrato Menesse entrato Aquilani entrato Perrotta Totti è rimasto in panchina forse è questa la chiave per il girone di ritorno il fatto che finalmente si sono tornati tutti quando hai una squadra di 23-24 giocatori e ce ne hai 8 in infermeria è difficile per chiunque per l'allenatore per noi compagni non rifiutare mai anche quello non è facile però sì la forza della Roma è sempre stata l'organico anche se non numerosissimo ma è fatto di giocatori molto vali ti posso chiedere un'ultima cosa che è un'ultima curiosità per Kakà sai com'è andata a finire se dovesse presentarsi un'offerta faranonica dal Manchester City anche per De Rossi cosa risponderesti? rispondono le società come abbiamo visto anche per Kakà ma io sono troppo innamorato della mia squadra penso che sarà la cosa più importante per sempre adesso Manchester City Cicchi qualsiasi cosa succederà grazie Massimo